segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te pomeriggio buon pomeriggio a lei dottoressa mi fa piacere collegarmi con voi come sempre è accaduto e tra l'altro oggi porto anche il sole milanese guardi che non è vero che non c'è niente quando si parla con me emerge il sud pure al nord quello funziona così senta presidente conte le chiedo risultato minimo del movimento 5 stelle alle regionali il risultato minimo per noi è sempre l'ambizione di vincerle le regionali sia nel lazio che in lombardia sappiamo che non è facile assolutamente quindi non possiamo dire che un'impresa facilmente raggiungibile però abbiamo un progetto politico in lombardia con maiorino e nel lazio con donatella bianchi che interpreta in maniera molto coerente i nostri principi i nostri valori è un progetto concreto assolutamente perseguibile non facciamo promesse a caso per la comunità rispettivamente lombarda e laziale quindi confidiamo davvero di poter vincere allora lei dice che confidate poter vincere e chi gliela può togliere questa speranza questo desiderio però diciamo i sondaggi non vanno esattamente in questa direzione mettiamola così e soprattutto qualcuno dice ma voi l'occasione ad esempio in lombardia l'occasione di sfilare la regione ce l'avreste avuta e qualcuno dice ve la siete lasciata sfuggire ma anche nel lazio allora è chiaro che se nel caso ci fossero stati meno candidati forse si poteva avere maggiori chance di poter competere quindi vince di poter competere per vincere però ogni competizione elettorale è una storia a parte qui lombardia ad esempio c'è stato il terzo sesto polo che ha candidato un autorevole esponente tradizionalmente del centrodestra la moratti e quindi hanno creato un terzo polo anche qui adesso per la competizione elettorale era una soluzione che per noi non era accettabile non l'è stata per noi e come abbiamo visto neppure per il pd abbiamo fatto siamo seduti a un tavolo ne è venuto fuori un programma condiviso un programma che è assolutamente un manifesto progressista quello con il partito democratico ma invece nel lazio col partito democratico non vi siete alleati e quindi di lì non molto di simile solo che se lì il pd ha subito come dire si è subito orientato sul candidato anche in questo caso di calender renzi e non si è seduto al tavolo per condividere il nostro progetto quindi obiettivamente dovrebbe fare questa domanda al pd ovviamente la facciamo anche al pd però visto che c'è lei ospite lo chiedo a lei perché il risultato è che poi si rischia di perdere in tutte e due le regioni e il risultato è che le regioni governano il centrodestra ma alessio arrivo arrivo conte mi perdoni c'è un'agenzia credo che alleato del